Parleremo di Odoo, ma non come si conosce normalmente Odoo, ovvero un ERP, ma come usare Odoo per sviluppare applicazioni in Python. Indipendentemente che è andata a fare un'applicazione che possa essere legata all'ERP o meno, soprattutto per le applicazioni basate sui dati, un framework da poter essere preso in considerazione per sviluppare applicazioni in Python, che è quello che vedremo nelle prossime slide. Voglio sviluppare un'applicazione in Odoo, cosa vado a sviluppare? Vado a sviluppare una app che in realtà è l'elemento base di Odoo che si chiama modulo. Questo modulo è l'elemento base di Odoo per comporre il framework e può essere un'app consistente oppure posso creare più moduli che cooperano tra di loro per raggiungere le funzionalità di una, quelle che mi servono per realizzare la mia applicazione. Beh, allora vediamo un attimino cos'è questo strano modulo visto in Odoo. Un modulo in Odoo è composto da una serie di elementi, fondamentalmente un modulo di Odoo è una cartella dove all'interno ci stanno una serie di file, alcuni Python, alcuni XML che ne definiscono la sua struttura. All'interno del modulo abbiamo in maniera classica i business object che sono classi Python e poiché Odoo è un framework principalmente orientato ai dati, abbiamo una serie di file XML che mi definiscono la struttura, cioè i dati base che il mio modulo andrà ad utilizzare, che la mia app andrà ad utilizzare, piuttosto che tutta una serie di elementi che vanno a caratterizzare l'aspetto di visualizzazione. La cosa bella di Odoo come framework è che, almeno per me, poi qualcuno che è innamorato della parte visuale, client e un po' meno, fondamentalmente non avete, avendo, si può realizzare un'applicazione moderna, javascript, un webgrind senza scrivere una riga di CSS, HTML e javascript. Io che sono completamente negato, tra gli elementi, per me è uno dei framework ideali. Per cui le interfacce le vado a scrivere come XML e all'interno del mio modulo avrò tutta una serie di data file che mi definiscono l'aspetto interfaccia sotto forma di XML. Ho, essendo un framework orientato al web, tutta una serie di elementi che mi permettono di interagire anche direttamente con il browser, e quindi la parte routing, quindi il web controller. E se voglio, a parte le immagini, posso anche mettere CSS, javascript e altro. Io mi fermo solo alla prima parola, immagini. Quindi, ok, visto più o meno cos'era un modulo, andiamo a vedere cos'è la struttura di questo modulo. E banalmente, un modulo in nodule non è altro che una directory che contiene, in realtà potrebbe essere completamente distrutturata. L'unico requisito, lo vedremo nella slide successiva, sono due file. Il resto potrebbe essere completamente distrutturato, ma esistono anche delle best practices su come organizzare la struttura interna del modulo. Ma tutto sommato, un modulo O2 è una cartella con un insieme di file Python e XML. Python e XML, ma di per sé un modulo O2 è anche un pacchetto Python. Quindi ha il suo bel file di inizializzazione, come ogni modulo Python. Quindi questo è il primo file obbligatorio che deve avere un modulo O2, ovvero limit di Python, come ogni modulo Python. e deve importare tutte quelle che sono le classi che userò all'interno del mio progetto. Come creo un modulo? Come vi dicevo ci sono delle best practices per creare il modulo. Posso applicarle, posso appunto crearle manualmente, o se voglio una guida, o dove vi metto a disposizione questo comando, Scarfold, che realizza una struttura base del modulo, quindi con buona parte degli elementi già presenti, seppur commentati e quindi ho una guida su quelle che sono le best practices per poter dividere i file presenti all'interno del modulo secondo un ordine logico prestabilito. accanto al file principale che mi identifica un modulo O2 come pacchetto Python, un altro file essenziale di un modulo O2 è il manifesto, in realtà il manifesto è un file che è stato introdotto con la versione 10 di O2, prima si chiamava OpenERP qualcosa, di fatto è qualcosa che caratterizza un, e contraddistingue un modulo O2, e gli dà la differenza rispetto a un generico pacchetto Python. Il file manifest informa l'engine O2, quello è un modulo utilizzabile, quindi è un pacchetto utilizzabile anche da O2, ed ha una serie di informazioni che servono per installare e gestire il modulo stesso, qua vedete semplicemente una micro versione di quello che può essere il file manifesto, ci sono tutta una serie di opzioni che si possono settare, ho messo appunto i puntini per indicare quello, questo momento vi voglio solo fermare sul Depends, che è la parte con cui O2 estende O2 esistenti, e se volete è anche la parte più, quella parte per cui O2 è vincente su determinati aspetti dello sviluppo, ovvero la capacità di estendere anche il core base di O2, mantenendo la compatibilità con eventuali aggiornamenti del core stesso. Quindi voi potete creare le vostre estensioni, senza per questo bloccarvi nel dover aggiornare il core base di O2. cosa io vado a estendere e utilizzare nel mio modulo, lo definisco nel file manifesto e sono le Depends. Ne abbiamo già parlato, saltiamolo. come ogni framework ha i classici tre elementi, ORM e gestione della business logic, e successivamente vedremo la parte interfaccia. L'ORM di O2 permette di astrarre su buona parte quello che è l'interazione con la base dati, e all'interno di una classe dell'ORM io posso andare a definire quella che è la business logic della mia applicazione. se volete e l'ORM estrapola il pattern DAO rendendolo completamente trasparente all'utilizzatore e mi permette di specificare semplicemente quelli che sono i field, ovvero gli elementi che vanno mappati, quindi vanno gestiti in maniera permanente sullo storage, che può essere anche multiplo, cioè non solo tb, O2 gestisce due storage distinti, uno per lo storage principale che è Postgres, ma per elementi tipo i file è possibile utilizzare il file system o una qualunque altra implementazione di storage di file di grosse dimensioni. Ok, questa è la parte di business logic. Quindi siamo arrivati sulla prima parte. Qua ho scritto, scrivendo una serie di classi Python, ho scritto quello che è il core della mia applicazione. per creare un oggetto di business logic mappato sull'ORM, non faccio altro che estendere questa classe di O2 che è ModelsModels, vado a definire una serie di parametri che sono obbligatori per poter far funzionare l'intero ambiente, gli devo dare un nome di invoco, normalmente gli si dà il nome del modulo più il nome del modello che vado, cioè dell'oggetto di business logic che vado a definire, una descrizione che è quello che mi pare, eventualmente una serie di elementi che definiscono quello che è la modalità di ereditarietà. Come vi dicevo, ho la possibilità di estendere in diversi modi gli oggetti. In questo caso sto utilizzando questo oggetto in modalità proxy. I data file sono elementi che vengono automaticamente scritti sul DB, sono dati che poi utilizzerò durante la mia gestione, è un modo comune per strutturare dati che poi mi serviranno durante l'esecuzione del modulo stesso. E ora passiamo all'ultima parte di questa veloce carrellata su come usare o do come framework e andiamo a vedere gli elementi che fanno parte dell'interfaccia, ovvero action e menu. Action e menu, come vi dicevo, vengono definiti in XML e quindi non andrete a scrivere, a meno che non vogliate, né codice JavaScript né CSS, ma semplicemente una serie di file XML che definiscono e vanno a inserire l'elemento action o menu all'interno di quella che è una struttura già predefinita del framework. Qua vediamo quello che è un menu, un ipotetico menu di questa app che ho immaginato che è un servizio generico, quindi dove io ho una tabella, una serie di elementi, quindi un oggetto di business logic che è quello che abbiamo visto prima che è un servizio e un menu di primo livello dove ho chiamato a fantasia o due service. All'interno di due service c'è un menu di secondo livello che sono i servizi, in realtà poi lo vediamo e se chi lo vuole consultare su GitHub c'è tutto l'intero progetto, ha anche altri due o tre elementi che sono elementi di secondo livello che fanno parte tutta della mia app o due service. Le viste, lo dicono lo stesso nome, sono a rendering di quelle che è la business logic. Una vista alla stregua del menu si definisce con un record XML. Un record XML che è un data file, viene creato e inserito sul database e mi definisce quello che è la struttura base di visualizzazione. Esistono tre grosse famiglie di viste che sono, in questo esempio qua, la vista tree, ovvero una classica lista di n elementi oppure posso creare una forma con, in questo caso semplificata, ma quella che è una struttura anche complessa. All'interno della forma, di una struttura forma, posso anche inserire tag HTML. Come vi dicevo prima, chi volesse consultare per ragioni di spazio e di tempo non potevamo vedere tutto, chi volesse consultare l'esempio lo trovate a questa URL su Github. Io intanto vi ringrazio e cedo la parola alla mia collega che farà l'ultima parte del modulo 2 parlando di come visualizzare in termini di report questi dati che abbiamo in questo momento visto. Elio Mara. Grazie. Grazie. Salve, sono Elio Mara Lopez e lavoro presso la ditta Cechi SRL Nudu Padmer e oggi sono qui per, diciamo, completare l'intervento di Luigi aggiungendo al modulo al modulo UDU Service un'ulteriore cartella che sarebbero i report. Però prima di tutto vi voglio spiegare due cose. In UDU ci sono due tipi di report report statistici e documenti report. I report statistici vi faccio vedere un esempio che parla meglio delle parole. In UDU non sono altro che dei report dinamici rendirezzati sul client come prospetti o grafici dei moduli li troviamo sotto il menu reporting no, scusate uno più ecco questi sono i tipici report statici che troverete su UDU sotto ogni modulo aggiuntivo i documenti report sono tutte le stampe tutte le stampe dei documenti che è quello che praticamente sono scritti in HTML in web e renderizzati tramite la libreria VH HTML e PDF ovviamente un documento PDF sarebbe il risultato del codice per creare questo report prima dobbiamo aggiungere un file un file chiamato report action che non è altro che la la chiamata del modello da da stampare lo dichiariamo con un ID univoco e il model che vogliamo renderizzare il nome del report il report type web PDF il nome del report e il file del template creato che lo vediamo più avanti questi sono ulteriori tech nel caso ci fossero degli allegati al report appunto il report template che sarebbe il vero e proprio template che più avanti vedremo anche la struttura completa di questi file dentro la cartella report e la traduzione di ogni template dentro del template dobbiamo creare due tipi due tipi di di template per l'uso delle traduzioni come vediamo da questa classe del template del documento viene chiamato il partner che fa riferimento ai modelli della della classe padre per l'utilizzo delle traduzioni non so se è chiaro però molto volentieri ve lo spiego successivamente se avete dei dubbi questo è praticamente la cartella report che ho aggiunto al al modulo di Luigi che sarebbe Udo Udo Service e parlavo del Reproduction che sarebbe questo file sotto Reproduce Service XML e il template dove ci sono i due i due template il main template e il template per le traduzioni vediamo nel dettaglio di che trattano questi due file innanzitutto ecco questi sono i due file per aggiungere la modifica al modulo aggiuntivo come si diceva l'id univoco il model che non è altro che la classe creata sotto la cartella models questa qua il nome del report il report time il name il file il file template creato e il nome del template nella generazione del PDF e questo nella pratica è il template aggiuntivo molto semplice perché è soltanto la stampa della scheda di una scheda di servizi alla quale possiamo aggiungere infinità di funzionalità tipo filtri attraverso sempre la stessa struttura del nostro modulo soltanto includendo nuove cartelle come può essere un wizard per per chiamare un pop up nella for dichiarare i nostri campi e filtri da aggiungere al nostro report e il report finale con questi due file il report option e il report template sarebbe questo è il titolo la tabella che chiama i dati del form che abbiamo nel contesto della form che stiamo vedendo qui possiamo aggiungere ci sono ulteriori campi che possiamo aggiungere dove ci pare come ci pare e un'altra cosa da notare sono gli stili non è una cosa che si fa regolarmente perché usiamo gli stili all'interno dell'ORM però nessuno vieta di aggiungere degli altri come dicevo è il titolo della form è la tabella che mi chiama i titoli degli oggetti sono nomi personalizzati potete chiamare come volete che poi saranno vediamolo così no no aiuto ok non riesco ah un grande e vediamo uno questo che dicevo è il main template per fargli la traduzione per per le traduzioni da sistema e il template generale dove troverò appunto i dati da da visualizzare sul report e alla fine ci troviamo reandirizzato sia il titolo è il titolo chiamando sempre le classi padri dentro l'ORM e che facilitano anche la generazione delle stampe e così come dicevo anche i css sia dell'ORM o quelli che volete aggiungere quindi in questo caso diciamo il limite e l'immaginazione vuoi aggiungere altro quando vuoi te se abbiamo finito ok diciamo che abbiamo visto un minimo una panoramica di quello che potrebbe essere lo sviluppo di un'ipotetica applicazione molto fantasiosa su Vodou e abbiamo visto i vari dettagli la realizzazione della parte di business logic la parte di interfaccia che l'abbiamo più o meno intravista se mi pigli il rendering quello che abbiamo visto poco anzi questo è il rendering di quelle tre righe di xml che vi ho fatto vedere ovviamente non possiamo perdere vincoli di tempo e quant'altro questo non può essere un modo di fare una forma cioè vedere in dettaglio quelli che sono gli elementi ciò che però spero siamo riusciti a trasmettere è che Vodou non è semplicemente un RPI con Vodou si possono realizzare applicazioni indipendentemente dall'RPI con un vantaggio quello di poter utilizzare un framework standardizzato e una serie di elementi come vedete in questa forma io ho fatto riferimento a un oggetto di Vodou che è il partner cliente questo qua e non ho scritto una riga di interfaccia ho utilizzato una componente standard di Vodou per andare a gestire su un ipotetico servizio che nulla ha a che fare con la parte RPI tutto quello che è l'anagrafica di un ipotetico utilizzatore del servizio velocità di sviluppo molto ma molto più elevata rispetto ad altri framework in cui avrei dovuto fare a mano per darvi un'idea questo modulo è stato realizzato in tre ore comprensivo i test e quant'altro infatti considerate quanto ci vorrebbe a partire da zero con autenticazione definizione dell'interfaccia definizione del modello e quant'altro ora abbiamo finito la parola è vostra grazie mille agli speaker quindi abbiamo qualche minuto per le domande grazie allora vista delle normative GDPR com'è la posizione di Odu con queste normative più che altro per la posizione dei dati sensibili dei propri utenti tema caldo molto caldo sono in scala quindi ok allora GDPR diciamo Odu come software come qualunque altro software non è soggetto a GDPR al di là del minimo sulla parte design però un software non può non è soggetto assolutamente a GDPR e chi lo adotta e quale sono le politiche di protezione dei dati che fanno sì che il sistema poi sia conforme o meno a quelle che sono i dettami del GDPR quindi direi a oggi ciò che potrebbe essere imputabile seppur non richiesto al software è l'aspetto sicurezza e non mi risulta che ci siano lacune di sicurezza e laddove ci dovessero essere lacune il team interviene in maniera celere e puntuale non vi sono particolari elementi di preoccupazione sotto l'aspetto di sicurezza laddove un'infrastruttura du venga esposta sulla rete per il resto chi ha rotto du decide qual è la sua politica in confronto al GDPR in realtà ognuno è soggetto a il GDPR è talmente variabile che ognuno che mette se lo tiene in casa senza nessun accesso esterno non c'è problemi però esposto sul cloud ovviamente tutte le sicurezze possono essere richieste per il fatto che uno possa prendere dati di cui ovviamente ognuno risponde in questo caso direttamente alla software però è una cosa talmente variabile e talmente incerta che in questo momento non è Odu che ne risponde quindi l'aspetto di protezione va fatto su chi fa il deploy ovviamente se ne faccio un deploy a casa mia non ho nessun problema questo qui questo talk era impregnato su usare Odu come framework però dall'esempio che lei ha fatto vedere lei ha realizzato sostanzialmente un modulo di Odu nel senso che questo qui è un modulo aggiuntivo che si integra alla distribuzione standard vanilla diciamo di Odu è stata installata per la distribuzione standard qui lei ha aggiunto questa view questa nuova pagina eccetera se io volessi non lo so ad esempio io voglio fare un'applicazione per un'azienda che vuole gestire gli ordini della mensa registrare gli ordini della mensa dei dipendenti e basta non ne frega nulla ad esempio delle fatture i contatti le vendite gli acquisti il magazzino l'inventario eccetera non vuole sapere nulla di tutta questa cosa della reportistica vuole solo usare magari tipo l'orm di Odu e basta è possibile questa cosa naturalmente allora questo è installato il modulo insieme ad altri ma se recupera da gtab il modulo e lo installa su un database vuoto completamente vuoto otterrà solo questo menu Odu service senza nulla quindi che ha le tre voci è l'unica scheda quindi avrà la sua applicazione completamente avulsa da ogni altra funzione di Odu questo modulo dipende solo ed esclusivamente dal partner ovvero dall'entità base cioè perché mi serviva non l'ho dovuta riscrivere quella che stiamo vedendo ovvero l'anagrafica dentro il modulo uso l'anagrafica o agganciato il modulo base e l'anagrafica poi per il resto non avrà nulla ok un'altra cosa che non c'entra con questo il report che ci ha fatto vedere la sua collega era in un XML era in un XML diciamo strano quello lì è HTML di fatto o è una cosa di Odu insomma che è HTML e web sì i report documentali sono scritti sia in HTML che in web che è il motore di stampa adesso della versione 11 ma questo vuol dire che se io metto dentro una tag script e comincio a scrivere JavaScript quella roba funziona? sì sì perché il punto vendita è sviluppato nell'80% in JavaScript e il modulo punto vendita ok grazie diciamo che il linguaggio che hai visto è Qweb che è il linguaggio di template di Odu per scrivere sia la parte interfaccia back office che anche le stampa e il suo linguaggio di template come ne possono esistere diversi altri Odu come framework ha un linguaggio di template per definire HTML e report PDF che è Qweb viene usato sia nella parte back office per definire le interfacce sia nella parte pubblicazione web quindi da dove dovesti fare un sito web sia nella parte di stampa con la conversione tramite WKHTML e PDF solo per la versione 11 perché le versioni precedenti usano WebKit RML come Openherb 7 e sì sì io avevo usato la versione allora avevo usato la versione la 6.1 no era la 7 era la prima che aveva l'interfaccia web la prima che non aveva più il client ma aveva l'interfaccia web era nel periodo di transizione sicuramente sì perché sono stati deprecati abbandonati completamente come progetti come motori di stampa ma ad esempio c'è ancora il fatto che ai tempi si poteva stampare l'entità Python nel report tipo mettere un'espressione Python non ricordo nella sintassi tipo doppia grafa dollar grafa assolutamente sì è quello che stavo dicendo non so se mi sono spiegata bene prima puoi aggiungere dei modelli dentro la cartella report semplicemente file pixel file Python che dichiarerebbero il tuo modello e le funzioni di come prendere di come passare questi dati al tuo report quindi diciamo arricchendo di più la tua stampa certo certo va bene grazie prego abbiamo tempo forse grazie ma adesso non lo conoscevo molto bene Udu ma come documentazione c'è molto bene male abbastanza non volevo come documentazione c'è della documentazione allora rispetto a qualcuno diceva che conosceva OpenHelp 7 poi passato con la 8 a Udu un po' è migliorato un po' è migliorato un po' è migliorato diciamo decisamente migliorato in termini di documentazione le prime versioni la documentazione era il codice oggi abbiamo un sito web una API grosso modo documentata una serie di best practices si può migliorare sì e a livello dei concorrenti sì e no però abbiamo fatto una serie di passi avanti negli ultimi anni si sta cercando di colmare o la casa madre sta cercando di colmare quella che era una lacuna delle prime versioni ovvero la completa assenza di documentazione grazie mille per il vostro intervento un applauso grazie a tutti